Alma, 13 mesi, 3 chili e rotti, e quegli occhioni roteanti, quasi più grandi del musetto scheletrito tra l'ebano e il caffè latte, e il lindore del lenzuolo bianco, almeno quello, e almeno un amorevole, materno, indice di emergency, piano Alma, piano, le poggia la pappa sulle labbra, all'unisono Parigi, Bataclan, che solo il suono evoca il suono del Kalashnikov, l'orrore di Kurz, a che pro, idioti, ancora ceri, ancora fiori, ancora lacrime, ancora ventoline tra le mani, l'ultimo appello era elementare, descrivete l'intima relazione tra Alma, il Bataclan, l'orrore di Kurz, l'inesistenza di Dio, e ancora una volta, scacco matto, avete riconsegnato il foglio in bianco. Grazie 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 Grazie